Nuove analisi dall'Arta per la balneabilità del mare a Pescara, prosegue l'estate all'insegna delle polemiche di chi lamenta di vieti messi da un giorno all'altro e un clima di confusione che danneggia tutto il comparto. Il sindaco Alessandrini mostra le carte appena aggiunte nelle sue mani e tranquillizza nuovamente sui valori. Contro il partito della paura, contro il partito di chi deve gridare sempre al lupo al lupo, il mare di Pescara è balneabile. Ce lo dice questa ultima rilevazione dell'Arta tenuta due giorni fa, una rilevazione suppletiva dopo le precipitazioni, una rilevazione ulteriore di cui non sapevamo l'esistenza, ne apprendiamo contenti i risultati perché mostrano che non bisogna ingigantire i problemi, bisogna lavorarci ogni giorno e i risultati arrivano. È opportuno naturalmente segnalare quanto sia importante questo passaggio con l'idea che il mare di Pescara oggi è come ieri e dunque è pienamente balneabile e invitiamo tutti a fare un bagno delle chiare fresche e dolci acque.